sai come magari mi devo concentrare anche perché sto al 90 stai zitto sto facendo lei a che sto alla fine io pover a 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